Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu. La radio della chiesa metropolitana di Pescara, penne, servizi pubblicitari via web ma anche software gestionali che sembrano inviati dalla Camera di Commercio ai propri iscritti per un totale di quasi 600 euro da pagare ripartiti in due bollettini non accompagnati neanche da una lettera di presentazione. Dietro tutto questo una vera e propria truffa ai danni di commercianti imprese e la Camera di Commercio non c'entra nulla, ne chiede nessuna forma di pagamento ai propri iscritti. La Camera di Commercio di Chieti Pescara, orfana in questo momento storico anche di un presidente, invita gli utenti a non pagare assolutamente e segnalare tempestivamente l'arrivo di questi bollettini agli uffici dell'ente. Una trovata che ha fatto già qualche vittima anche in altre regioni come per esempio il Piemonte dove è partita un anno fa. Il Cotir è un ente pubblico non economico quindi i dipendenti non possono essere licenziati in base alle norme dei rapporti lavorativi privati. È quanto ha stabilito la sentenza della sezione del lavoro del Tribunale di Vasto che ha accolto ieri il ricorso contro il licenziamento di 14 lavoratori assunti dopo aver vinto un concorso pubblico stabilendo per loro il reintegro. Deve riconoscersi la natura di ente pubblico non economico del Cotir sul rilievo che esso è stato istituito dalla Regione con legge regionale per il perseguimento di fini e per lo svolgimento di attività di interesse generale secondo criteri di efficacia, efficienza e economicità. Rilevano al fine della suddetta qualificazione i giudici che poi appunto elencano i seguenti elementi Il capitale sociale è costituito da quote versate da enti pubblici il personale è stato assunto con pubblico concorso il consorzio è finanziato dalla Regione e da enti pubblici e non ha fini di lucro Tali circostanze, scrivono i giudici, depongono tutte per la qualifica del consorzio come organismo di diritto pubblico non economico Dopo otto mesi di trattativa e 60 giorni di sciopero Honeywell e sindacati hanno raggiunto un accordo per il destino dello stabilimento di Atesse in provincia di Chieti Il sito produttivo non chiuderà e tutti i 380 lavoratori resteranno al loro posto Non ci sarà nessun licenziamento L'impegno sottoscritto dalla multinazionale che produce turbocompressori per motori diesel presso il Ministero dello Sviluppo Economico è quello di porre i lavoratori in cassa integrazione straordinaria fino al febbraio 2019 e prevedere un sistema di incentivazione concordato in un verbale apposito con cui incentivare appunto l'uscita dei lavoratori che potranno beneficiare di 50.000 euro oltre a 1.000 euro per ogni anno di anzianità o in alternativa potranno beneficiare di 22 mensilità Per tre giorni l'Abruzzo è stato sotto i riflettori dei media internazionali e nazionali che insieme agli operatori del settore turistico hanno manifestato tutto il loro interesse a conoscere il territorio della nostra regione e raccontarlo nella sua dimensione di destinazione turistica da seguire La regione ha partecipato alla BIT, la Borsa Italiana del Turismo di Milano anzi la Borsa Internazionale del Turismo insieme alle 12 Destination Management Companies e alla Product Management Company per presentare la propria offerta turistica Una presenza soprattutto tecnica, dice la regione sottolineando che il programma della manifestazione ha previsto una sola giornata di apertura al pubblico e altre due dedicate agli operatori del settore con incontri B2B, cioè business to business per veicolare il prodotto turistico sui mercati Si è tenuta ieri nella scuola secondaria Manzoni di Letto Manoppello in provincia di Pescara la presentazione di un nuovo sportello antiviolenza che fa parte del progetto Medea la cui associazione omonima si occupa di supportare i soggetti vittime di violenza di genere e prevenire casi di bullismo e mobbing Nello specifico lo sportello offre una consulenza gratuita per gli utenti mettendo loro a disposizione psicologi, avvocati, criminologi e sociologi Essi forniranno il loro sostegno per far sì che si trovi una soluzione a ogni tipo di problema presentato E' molto importante, sottolinea Medea Onlus sensibilizzare adulti e ragazzi sulla serietà di fenomeni che si diffondono sempre più con dati piuttosto preoccupanti I casi di violenza in Italia sono circa 6.800.000 di cui il 31,5% in Abruzzo Il forum H2O in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Pescara ha organizzato per ieri a Pescara un incontro pubblico per parlare di rischio sismico e pianificazione delle aree costiere dichiara Fabrizio Galadini ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia invitato a tenere una lezione introduttiva sull'argomento I settori costieri risentono, con danni anche ingenti della forte sismicità penninica legata alle grandi faglie estensionali Ciò è avvenuto ad esempio in occasione dei terremoti del 1703 e del 1915 In riferimento a quest'ultimo terremoto sono da notare, dice il ricercatore, i cospicui danni in Val Pescara e centri posti più a est come Chieti, Penne e Cappelle sul Tavo cui è stata attribuita l'intensità 7 della Scala Mercalli Ciò considerato, particolare attenzione, dovrebbe essere posta ai possibili effetti dell'eventuale attivazione della faglia penninica più prossima ai settori adriatici quella di Assergi Campo Imperatore, considerata attiva e in grado di generare terremoti con magnitudo anche maggiore di 6.5 Toleranza zero nei confronti dei bivacchi sul territorio di Montesilvano Ad appena 24 ore dallo sgombero condotto nella riserva naturale Santa Filomena la polizia locale e la compagnia dei carabinieri di Montesilvano hanno eseguito ieri una nuova azione anche nell'operazione di ieri sono state rimosse due tende allestite abusivamente nella Pineta, nella zona antistante via Firenze e sono stati identificati tre cittadini stranieri Con questa azione, dice l'assessore alla polizia locale proseguiamo in questo duro e costante percorso condotto per il ripristino della sicurezza e del decoro cittadino Oggi è sabato, 17 febbraio la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Venanzio dell'Aquila che festeggerà la ricorrenza domani Siamo alle previsioni del tempo Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo coperto fino a tutto il pomeriggio è nuvoloso con nebbia in serata temperature da 8 a 11 gradi e 20 deboli nelle zone interne cielo nuvoloso al mattino è coperto nel resto della giornata con temperature da 6 a 9 gradi e 20 deboli domani si prevedono sulla costa nebbia al mattino cielo coperto nelle ore centrali e nel pomeriggio è pioggia in serata con temperature da 7 a 11 gradi e 20 da deboli a moderati e nelle zone interne cielo coperto fino a metà pomeriggio e pioggia nel resto della giornata con temperature da 7 a 10 gradi e 20 deboli il mare è previsto quasi calmo sia oggi che domani questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne a voi tutti grazie per averci seguito buona giornata abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie per la visione